Cosa di Cosa Nostra di Giovanni Falcone in collaborazione con Marcel Padovani Quando pensiamo alla mafia, immediatamente ci viene in mente la figura esemplare di Giovanni Falcone, ucciso il 23 maggio del 1992 per gli straordinari risultati ottenuti nella lotta al crimine con le confessioni dei pentiti Buscetta, Contorno, Francesco Marino Mannoia, eccetera. Spesso noi ci fermiamo però a una commemorazione generica, non approfondiamo la sua eredità, il suo fantastico contributo alla conoscenza del fenomeno criminale, che mantiene intatto ancora oggi, a tanti anni di distanza ormai della sua morte, diciamo il suo valore essenziale, sostanziale, cioè sostanzialmente i traguardi cui è giunto lui nella lotta al crimine sono ancora dei punti di riferimento per oggi, essendosi quindi evoluta la mafia stessa e i metodi investigativi, pur essendosi evoluta la mafia e i metodi investigativi, diciamo che il contributo di Giovanni Falcone è ancora importantissimo. Rischiamo di perderlo però se non lo rammentiamo. Il contenuto di questo libro, le cose che adesso io leggerò, sono le parole che Falcone ha detto, ha consegnato a questa giornalista francese, Marcel Padovani, pochi mesi prima di essere ammazzato, nel corso di una serie di interviste, non una sola. E impoverirebbe, quindi, anche gli investigatori, oltre che noi semplici cittadini, che vogliamo essere cittadini attivi, si parla tanto di educazione alla legalità, cittadinanza attiva, bene, dimenticare l'essenza del metodo Falcone ci impoverirebbe. Ecco quindi il motivo per cui riprendere queste cose. In che cosa consiste questo metodo Falcone? Ancora oggi, il mezzo migliore per giungere alla verità sul crimine, parte da un rapporto umano, consiste in un rapporto umano, ad esempio quello tra investigatore e pentito. Questa è l'unica cosa in grado di rompere la crosta di omertà e di complicità che nasconde, occulta, l'organizzazione mafiosa. Così, a pagina 9, proprio all'inizio di questo libro, Giovanni Falcone ci consegna subito qual è il cuore del suo metodo. L'importanza dello sguardo, dice Falcone, infatti. Durante l'interrogatorio di Michele Greco, capo di Cosa Nostra a Palermo, ogni tanto ci dicevamo a vicenda, mi guardi negli occhi, perché entrambi sapevamo l'importanza di uno sguardo che si accompagna ad un certo tipo di affermazione. Ecco, quindi l'importanza del guardare negli occhi. Guardare negli occhi l'investigato, l'accusato, perché è un uomo, anzitutto. Questo è il primo passo per ottenere dei risultati. Brevemente, c'è da ricordare quali sono le origini di questo fenomeno, qual è la storia, per sommi capi, della mafia. Una storia che affonda nei secoli scorsi, dice per esempio Pino Arlacchi, che è un sociologo, è un fenomeno economico, sociale e politico molto vasto, distribuito in molte regioni e in molte parti del mondo. Nel nostro paese essa ha origini antiche, a volte nel mistero e nella leggenda, ma che sicuramente si ricollegano agli oscuri periodi di oppressione vissuti dai siciliani sotto il dominio spagnolo e poi sotto quello borbonico. Quando abbiamo spiegato infatti i promessi sposi e quindi la società del Seicento, abbiamo visto delle caratteristiche di quella società sotto la dominazione spagnola che, insomma, sono molto simili alle cose che avvengono ancora oggi sotto il potere della mafia. Più o meno, quindi, il punto di partenza è quello e poi ancora la dominazione borbonica. Diventa proprio un'associazione vera e propria dopo l'unificazione d'Italia. Nel Novecento essa è stata combattuta, ora con più decisione, durante il fascismo, pagina 17 di questo libro, per esempio, che è una versione, diciamo, scolastica, didattica, corredata di note e itinerari critici del testo di Cosa e di Cosa Nostra. Si dice che durante il regime fascista la mafia fu affrontata con metodi duri. Il prefetto Cesare Mori, inviato da Mussolini in Sicilia, riuscì a ridurne di molto l'attività. Poi però, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si sono utilizzati metodi estemporanei, talvolta incostanti, come nel secondo dopoguerra, appunto. Ma riprenderemo questo discorso. Allora, vediamo che poi il testo di Cosa e di Cosa Nostra si snocciola in alcuni capitoli, il primo proprio sono le violenze, quindi, ad esempio, le tecniche di omicidio dei mafiosi. Dice, appunto, Falcone a questa giornalista che generalmente i mafiosi uccidono tramite strangolamento, che è una tecnica piuttosto particolare, cioè è una tecnica che non lascia tracce, ecco perché è prediletta dai mafiosi, ed è una tecnica estremamente virile, nel senso che per uccidere tramite strangolamento occorre avere determinazione, forse violenza, insomma, perché è un corpo a corpo, in un certo senso, che si verifica, insomma, fra la vittima e il suo assassino. Prima di arrivare all'omicidio, spesso i mafiosi fanno delle intimidazioni, cioè fanno capire attraverso dei gesti esemplari, eccetera, per esempio esplosioni, fuochi, eccetera, incendi, volevo dire, di negozi o di cose che appartengono alla vittima, fanno capire che deve comportarsi diversamente. Se poi continua, persiste in questo atteggiamento che è giudicato negativamente dai vertici mafiosi, spesso appunto i capi dicono, ordinano, insomma, agli affiliati di uccidere, e ogni membro dell'organizzazione deve essere disposto a uccidere se glielo ordinano, senza tenamenti. Ecco qui per esempio vediamo la pagina 24, si dice, La mafia sceglie la via più breve e meno rischiosa per uccidere. Questa è l'unica regola. Non ha alcuna preferenza di tipo fetticistico per una tecnica o per un'altra. Il metodo migliore resta la cosiddetta lupara bianca. E cos'è? E' la scomparsa, pure semplice, della vittima disegnata, senza tracce del cadavere, e neppure di sangue. E' una realtà che lascia interdetti tutti coloro che hanno visto i film di mafia in cui i registi non risparmiano fiumi di sangue, ma lo ripeto, La mafia, se può, preferisce le operazioni discrete che non attirano l'attenzione. Ecco perché lo strangolamento si è affermato come la principale tecnica di omicidio in Cosa Nostra. E questo l'abbiamo già detto. Parlavamo però adesso dell'obbligo di uccidere. Se ne parla, per esempio, alla pagina 25. Nell'organizzazione violenza e crueltà non sono mai gratuite e rappresentano sempre l'extrema razio, l'ultima via d'uscita quando tutte le altre forme di intimidazione sono inefficaci, o quando la gravità di uno sgarro è tale da meritare soltanto la morte. Mi chiedono spesso se un uomo d'onore può scegliere di non uccidere. La mia risposta è no. Il solo che mi abbia confessato di aver avuto dubbi prima di un omicidio è il pentito Vincenzo Sinagra, ma non era un membro di Cosa Nostra. Si accontentava di gravitare nella sua orbita. Poi ci sono dei racconti di queste eccezioni, di persone che sono riuscite a sfuggire a questo ordine, ma nel 99% dei casi, dice Giovanni Falcone a pagina 27, quando un uomo d'onore riceve l'ordine di uccidere non ha altra scelta se non quella di obbedire. Se deve uccidere, uccide, senza porsi domande e senza farne. Senza lasciare trasperare incertezze e soprattutto senza averne. Senza manifestare compassione. Chi tenna di fronte alla necessità di uccidere è a sua volta un uomo morto. Dall'interno di un'organizzazione come Cosa Nostra si giudicano le cose in maniera diversa rispetto all'esterno. Quello che ci fa orrore nei casi di morte violenta, come magistrati o come semplici cittadini, l'eliminazione di un uomo per mano del suo migliore amico, lo strangolamento di un fratello per mano del fratello, non produce le stesse reazioni negli uomini d'onore. Ecco, dicevamo che c'è appunto una specie di stravolgimento di quelli che sono i canoni della morale, del comportamento umano. Abbiamo fatto l'esempio proprio dell'uccisione di una persona da parte di un amico da parte di un familiare. ecco, quindi che il capo della mafia ingiunge, obbliga insomma, qualcuno a uccidere il proprio migliore amico, a uccidere il proprio familiare e uno non può sottrarsi. Abbiamo spiegato che questo altrimenti potrebbe anche causare la morte di quella persona. Ci sono spesso luoghi comuni comunque sulla mafia. Uno l'abbiamo già visto, quella della crudeltà gratuita, che non è appunto, non corrisponde a verità. Anzi, quando i mafiosi possono esimersi dalla crudeltà o dal sangue o dalla violenza gratuita, lo fanno. Un altro luogo comune è quello della gerarchia delle punizioni. Un mafioso uccide e basta possibilmente strangolando, come abbiamo già spiegato, non gli verrebbe nemmeno in mente di torturare o seviziare, quindi in crudelire, contro la vittima prima di ucciderla, per punirla in base a quello che ha commesso. Infatti, qua dice a pagina 29 lo stesso Falcone. Oltre a quello della crudeltà gratuita di Cosa Nostra, vorrei far piazza pulita di un altro luogo comune, molto diffuso e perfino esaltato da un certo tipo di letteratura. Si tratta dei cosiddetti rituali di uccisione. È opinione comune che esiste una specie di gerarchia delle punizioni in base alla gravità delle mancanze commesse. È una classifica di violenze a seconda del livello del pericolo che la futura vittima presenta. È sbagliato. Insomma, non stanno lì a fare rituali di uccisioni o cose del genere. La cosa importante è quella di raggiungere lo scopo e cercano di farlo nel modo più pulito in un certo senso possibile, cioè senza lasciare tracce. e basta. Andiamo adesso a parlare di quello che è uno degli argomenti principali di questa intervista, cioè appunto le confessioni di Tommaso Buscetta. La svolta nella carriera di Giovanni Falcone avviene quando il magistrato ottiene informazioni preziosissime da Tommaso Buscetta chiamato anche il pentito dei pentiti, il super pentito possiamo dire. A pagina 43 si racconta l'incontro di Giovanni Falcone col boss Tommaso Buscetta avvenuto nel 1984 segna una svolta nelle indagini su Cosa Nostra. Le confessioni di Buscetta porteranno in tribunale circa 400 imputati mafiosi nel cosiddetto maxiprocesso. Chi è il boss super pentito? Perché si è deciso a tradire e a fornire informazioni preziose sulla struttura dell'organizzazione, sul codice sulle tecniche stesse che usa? La risposta è nella sua stessa vita, vita di mafioso temuto e rispettato e poi fatto oggetto di feroci vendette trasversali. Ecco, il fatto quindi che ad esempio i Corleonesi abbiano infiedito contro alcuni dei suoi familiari, contro alcuni suoi amici, eccetera, lo ha indotto a pentirsi. Certamente se non ci fosse stata comunque una persona sensibile, intelligente, come Giovanni Falcone, davvero non si sarebbero raggiunti questi risultati straordinari, cioè praticamente di accusare ben 400 mafiosi grazie alle confessioni di Tommaso Buscetta. Come mai ha raggiunto questi risultati straordinari? L'abbiamo già accennato. Grazie al suo metodo, ad esempio il rispetto dell'accusato. Il procedimento attraverso il quale Falcone riesce ad ottenere risultati così eccezionali è quello della sua profonda correttezza e professionalità che ha come presupposti imprescindibili il rispetto del pentito. Ecco, anzitutto, quindi parliamo del rispetto del pentito. Leggiamo alcuni brani tratti dalle interviste che ha rilasciato Giovanni Falcone a Marcel Padovani dice per esempio Falcone Nei miei rapporti con i mafiosi mi sono sempre mosso con estrema cautela evitando false complicità e atteggiamenti autoritari o arroganti esprimendo il mio rispetto ed esigendo il loro. Poi ancora sempre in questo libro alla pagina 58 dice Falcone Perché questi uomini d'onore hanno mostrato di fidarsi di me? Credo perché sanno quale rispetto io abbia per i loro tormenti perché sono sicuri che non l'inganno che non interpreto la mia parte di magistrato in modo burocratico e che non provo timore reverenziale nei confronti di nessuno e soprattutto perché sanno che quando parlano con me hanno di fronte un interlocutore che ha respirato la stessa aria di cui loro si nutrono. Sono nato nello stesso quartiere di molti di loro conosco a fondo l'anima siciliana da un'inflessione della voce da una strizzatina d'occhi capisco molto di più che da lunghi discorsi sono dunque diventato una sorta di difensore di tutti i pentiti perché in un modo o nell'altro li rispetto tutti. E poi ancora alla pagina 59 io ho cercato di immedesimarmi nel loro dramma umano e prima di passare agli interrogatori veri e propri mi sono sforzato sempre di comprendere i problemi personali di ognuno e di collocarli in un contesto preciso scegliendo argomenti che possono confortare il pentito nella sua ansia di parlare ma non ingannandolo mai sulle difficoltà che lo attendono per il semplice fatto di collaborare con la giustizia sappiamo infatti che insomma molti pentiti sono stati loro direttamente oggetto di attentati per non parlare di quello che hanno fatto insomma i mafiosi ai loro familiari che le hanno ammazzate moltissimi non gli ho dato mai del tu al contrario di tanti altri ecco quindi vedete rispettare queste persone per Giovanni Falcone voleva per esempio dare voleva dire dare del lei essere cortesi nei loro confronti non l'ho mai insultato come alcuni credono di essere autorizzati a fare e neppure gli ho portato i dolci siciliani come qualcuno ha insinuato quindi qualcuno ha detto Falcone porta i cannoli a buscetta no non è vero sono sempre stato molto corretto l'abbiamo già detto è proprio questo metodo questo modo di operare che ha portato a risultati così buoni dice ancora Falcone conoscere i mafiosi ha influito profondamente sul mio modo di rapportarmi con gli altri anche sulle mie convinzioni ho imparato a riconoscere l'umanità anche nell'essere apparentemente peggiore ho imparato ad avere un rispetto reale non solo formale per le altrui opinioni ho imparato che ogni atteggiamento di compromesso il tradimento la semplice fuga in avanti provoca un sentimento di colpa un turbamento dell'anima una sgradevole sensazione di smarrimento e di disagio con se stessi l'imperativo categorico dei mafiosi di dire la verità è diventato un principio cardine della mia etica personale almeno riguardo ai rapporti veramente importanti della vita per quanto possa sembrare strano la mafia mi ha impartito una lezione di moralità ecco vedete che atteggiamento e tra l'altro anche per noi insegnanti è importante questo non dobbiamo mai essere saccenti sentirci superiori agli altri né se siamo degli insegnanti sentirci superiori agli studenti né se siamo degli inquisitori dei magistrati sentirci superiori ai mafiosi ma dobbiamo avere un atteggiamento diverso quello di chi vuole imparare dagli altri ecco questo atteggiamento è quello che ha permesso a Falcone di ottenere sinceramente molti risultati anzi addirittura dice che ha imparato tanto addirittura la mafia impartisce lezioni di immoralità perché per esempio i mafiosi sono sempre molto intransigenti non ammettono compromessi e questa cosa comunque è una cosa positiva insomma che lui ha colto anzi addirittura dice che lui ha sentito rafforzarsi il senso dello Stato che già aveva innato forte in lui proprio attraverso questa esperienza infatti questa esperienza si intende quindi la confessione dei pentiti resa davanti a lui dice infatti Falcone sempre alla pagina 60 di questo libro questa avventura ha anche reso più autentico il mio senso dello Stato confrontandomi con lo Stato mafia mi sono reso conto di quanto esso sia più funzionale ed efficiente del nostro Stato e quanto proprio per questa ragione sia indispensabile impegnarsi al massimo per conoscerlo a fondo allo scopo di combatterlo mi rimane comunque una buona dose di scetticismo non però alla maniera di Leonardo Sciascia che sentiva il bisogno di Stato ma nello Stato non aveva fiducia ecco qui abbiamo una grossa differenza di impostazione fra Giovanni Falcone e Leonardo Sciascia Leonardo Sciascia sente il bisogno dello Stato ma ormai non ha più fiducia in esso invece Giovanni Falcone ha una fortissima un fortissimo senso dello Stato e una fortissima fiducia nello Stato il mio scetticismo piuttosto che una diffidenza sospettosa è quel dubbio metodico che finisce con rinsaldare le mie convinzioni io credo nello Stato e ritengo che sia proprio la mancanza di senso dello Stato di Stato come valore interiorizzato a generare quelle distorsioni presenti nell'animo siciliano e poi ancora alla pagina seguente pagina 61 in certi momenti questi mafiosi mi sembrano gli unici esseri razionali in un mondo popolato da folli anche Sciascia sosteneva che in Sicilia si nascondono i cartesiani peggiori cartesiani in senso di razionali persone razionali ma l'abbiamo già visto è comunque importante recuperare il senso dello Stato e la razionalità poi ancora la doppia morale un'altra delle caratteristiche proprio dell'anima siciliana la doppia morale i siciliani costretti a sottostare nei secoli a molti invasori stranieri hanno adottato nei confronti di questi stranieri un atteggiamento spesso dissimulatore cioè di chi finge di chi nasconde i suoi veri sentimenti quindi si sono comportati in modo infedele nel senso di inaffidabile con gli altri proprio perché invece essi sono estremamente fedeli e affidabili con quelli che per esempio già nei secoli passati facevano parte di quelle organizzazioni clandestine che proliferavano talvolta anche giustamente per opporsi ai dominatori stranieri ai dominatori estranei alla propria cultura pensate per esempio alla massoneria no? però è chiaro che con l'evolversi della situazione poi queste organizzazioni clandestine sono diventate una vera e propria organizzazione malavitosa sono diventate appunto la mafia però ripeto c'è da conoscere l'anima siciliana e le caratteristiche di quest'anima ad esempio quella della doppia morale no? per capire meglio anche le persone che abbiamo davanti quindi per esempio i mafiosi dice infatti Falcone alla pagina 78 si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale quanto alla doppia morale o doppiezza dell'anima siciliana è un retaggio della storia dei tempi in cui la Sicilia doveva difendersi dal mondo esterno inventandosi un modo di essere che permettesse di resistere all'occupante e di sopravvivere gli invasori qui sono arrivati da ogni dove beh lo sappiamo da arabi normanni svevi angioini ragonesi eccetera e ogni volta ci si è dovuti adattare o almeno far finta di adattarsi in attesa che andassero via alla fine se ne sono andati lasciandoci però in eredità un temperamento che definirei misoneista cioè di uno che odia il nuovo fatto di apparente sottomissione di fedeltà alle tradizioni unite a un orgoglio delirante il risultato che i siciliani adottano e assimilano qualsiasi novità ma in funzione di criteri e scelte utilitaristiche del tutto personali e poi ancora Falcone la pagina seguente pagina 79 la doppia morale non impedisce il rispetto della parola data e la morale del popolo degli uomini come si autodefinivano anche i siù non rubare non desiderare la donna ad altri sono regole che valgono nell'ambito della propria etnia i film e i libri più recenti ci hanno fatto capire che le atrocità commesse dai siù o dai pelli rossa in genere contro i colonizzatori bianchi avevano una loro logica e un senso per il loro popolo quante analogie tra gli eroi di balla coi lupi e i siciliani anche quando la loro cultura viene esasperata e manipolata da cosa nostra gli uomini d'onore non sono né diabolici né schizofrenici non ucciderebbero padre e madre per qualche grammo di eroina sono uomini come noi la tendenza del mondo occidentale europeo in particolare è quella di esorcizzare il male proiettandolo su etnie e su comportamenti che ci appaiono diversi dai nostri come dire se è un palermitano se è un siciliano se è un mafioso quindi no ma se vogliamo combattere efficacemente la mafia non dobbiamo trasformarla in un mostro se è un mafioso quindi se è un mostro se è un violento assassino né pensare che sia una piovra un cancro dobbiamo riconoscere che ci assomiglia apriamo adesso invece una breve parentesi sulle donne della mafia e qui distingue bene Falcone nel senso che dice ci sono state sia delle donne che hanno aiutato i loro uomini a uscire dall'organizzazione magari sostenendone il pentimento come per esempio Cristina Ghimaraes la moglie di Buscetta che è stata bravissima nel partecipare al travaglio interiore del marito e quindi l'ha aiutato sia però purtroppo molte donne che hanno assecondato i progetti criminali dei mariti dice infatti Falcone le donne hanno assunto un ruolo determinante decise e sicure di sé sono diventate il simbolo di quanto c'è quelle positive diciamo così di quanto c'è di vitale gioioso e piacevole nell'esistenza sono entrate in rotta di collisione con il mondo chiuso oscuro tragico ripiegato su se stesso e sempre sul chi vive di cosa nostra e questo quindi sono le donne appunto ad esempio le mogli che hanno aiutato come dire questi pentiti per esempio la moglie di Calderone un altro pentito affettuosa discreta convincente eccetera alcune donne purtroppo non rare invece non si sono ancora schierate con la cultura della vita penso alla moglie di Vincenzo Buffa che aveva cominciato a collaborare con me ho commesso l'errore di permettergli di parlare con lei come egli chiedeva insistentemente e lei l'ha convinto a ritrattare a rimangiarsi le sue dichiarazioni ha perfino organizzato una specie di rivolta delle mogli nell'aula bunker del maxiprocesso a Palermo piangevano urlavano protestavano a gran voce non contro quel buffa che voleva infrangere l'omertà ma contro i giudici che lo avevano costretto a comportarsi a quel modo parliamo adesso della mentalità siciliana alcuni aspetti tipici della gente siciliana si riscontrano anche negli affiliati alle cosche e chi deve combattere l'organizzazione deve conoscerli bene ad esempio la naturale riservatezza spinge i siciliani a non immischiarsi nei fatti altrui il che è un bene e un male allo stesso tempo è un fatto che intromettersi immischiarsi impicciarsi in faccende altrui causa spesso fastidi e quindi questa caratteristica tipica della mentalità siciliana ad esempio favorisce l'omertà altra abitudine siciliana i regali è incredibile quanti regali si fanno in Sicilia perché il regalo è segno tangibile di rispetto più se ne ricevono più si è certi di essere un personaggio importante ammirato venerato anche questa consuetudine rientra poi all'interno dell'organizzazione mafiosa sotto forma di regali che per esempio i mafiosi fanno ai loro affiliati oppure che fanno i commercianti o quelli diciamo che hanno rapporti con i mafiosi per tenerseli buoni la cupola la mafia siciliana è caratterizzata proprio per una organizzazione di tipo verticistico che ci tiene a sottolineare Giovanni Falcone si distingue rispetto l'andrangheta calabrese e la camorra napoletana perché almeno ai tempi di Buscetta la mafia era molto più strutturata e ordinata in senso verticale rispetto alle altre quindi c'è il boss poi dopo tutte le varie ramificazioni sotto di lui rispetto alle altre organizzazioni criminali regolate in modo più disorganico in senso orizzontale da dove ci sono per esempio tanti boss se non uno solo ad esempio a pagina 101 afferma Giovanni Falcone la camorra napoletana e l'andrangheta calabrese spesso chiamate anch'esse mafia non hanno la struttura unitaria gerarchizzata e a compartimenti stagni di Cosa Nostra entrambe hanno un'organizzazione per così dire orizzontale si sofferma su questo nel capitolo intitolato appunto Cosa Nostra dove spiega il tipo di organizzazione della mafia Falcone anche se magari le cose sono cambiate nel corso degli anni parliamo adesso degli sviluppi dell'organizzazione criminale non ci sono più i mafiosi di una volta potremmo dire con un'espressione che forse è anch'essa un luogo comune è vero comunque che la mafia siciliana oggi è più ecco ci sono delle cose che sono cambiate rispetto al passato ad esempio c'è una maggiore indipendenza e autonomia fra la mafia siciliana e la mafia americana nel senso che una volta per esempio i mafiosi siciliani potevano che ne so trasferirsi in America e automaticamente scusate essere accettati dentro l'organizzazione ebbene queste cose invece non avvengono non avvengono più oggi come oggi no? è vero ad esempio che la mafia è diventata più violenta negli ultimi decenni ad esempio spiega Falcone i corleonesi rappresentano una svolta in senso violento simile a quella avvenuta nella camorra napoletana con i casalesi quindi diciamo sono delle famiglie emergenti disposte a tutto disposte ad ammazzare tutti quanti anche a scatenare guerre interne pur di raggiungere il potere e lo raggiungono anche proprio grazie a questi metodi grazie al fatto che sono senza scrupoli la profezia all'interno di queste interviste proviamo una anticipazione di quello che avverrà dicevamo proprio il 23 maggio del 1992 dice infatti Falcone pagina 109 a questo punto avanza un'ipotesi tensione e sofferenza se così si può dire hanno raggiunto un alto grado di intensità all'interno di cosa nostra quindi ad esempio le guerre interne piuttosto che i maxiprocessi hanno esasperato i capi mafiosi un attentato spettacolare un omicidio eccellente ad esempio contro un rappresentante dello stato ma anche contro altri potrebbe fungere da elemento pacificatore fra le due anime che si contendono la mafia i palermitani decisi a prendersi una rivincita e i corleonesi che dal 1982 hanno sottratto al capoluogo la guida dell'organizzazione ecco perché diciamo è stato profeti Falcone perché pochi mesi dopo quello che ha detto a Marcel Padovanì lo stesso è stato ucciso e ancora poi nel luglio di quello stesso 1992 è stato ucciso anche Paolo Borsellino come sappiamo altro capitolo profitti e perdite cioè come si sostendano la mafia a differenza appunto della mafia americana quella siciliana si provvede di entrate non tramite prostituzione o gioco d'azzardo ritenute attività disonorevoli dai siciliani ma attraverso la droga il racket delle estorsioni e gli appalti pubblici ecco approfondiamo quindi questi argomenti dicevamo il racket delle estorsioni quindi il pizzo ad esempio il 29 agosto del 1991 è stato ucciso Libero Grassi che era un commerciante che si rifiutava di pagare la tangente e da quel momento è diventato il simbolo dei commercianti e degli impreditori che non si abbassano a pagare il pizzo la tangente è nata anche un'associazione intitolata appunto a Libero Grassi purtroppo però non tutti si comportano come Libero Grassi è il caso della famiglia di costruttori Costanzo che rappresentano la fetta di società collusa con la mafia e con il loro atteggiamento danno sostegno alla criminalità con la scusa che altrimenti non riuscirebbero a lavorare insomma loro di fatto hanno accettato le condizioni dei mafiosi e quindi protetti dai mafiosi hanno ottenuto molti lavori eccetera eccetera ma questo di fatto appunto li rende essi stessi dei mafiosi in un certo senso l'evoluzione del mercato e il riciclaggio nel corso degli anni successivi cioè quindi degli ultimi anni i mafiosi hanno iniziato non solo a proteggere i costruttori come Costanzo di cui abbiamo parlato prima e gli imprenditori disposti a pagare il pizzo ma sono diventati essi stessi degli impresari si infiltrano nel mercato per esempio dice Falcone alla pagina 127 oggi ne ha pregevolmente scritto il sociologo Pino Arlacchi l'organizzazione parassitaria ha subito un profondo mutamento il mafioso non si maschera da imprenditore è diventato un vero imprenditore che sfrutta il vantaggio supplementare rappresentato dalla sua appartenenza a Cosa Nostra mutamento questo conseguente all'arrivo di un enorme flusso di denaro prima dal contrabando di tabacco e poi dal traffico di droga ecco quindi che i mafiosi decidono essi stessi di diventare imprenditori ecco dicevamo impresari nel mercato ricco della droga vediamo per esempio cosa dice a pagina 130 i cosiddetti colletti bianchi si pongono a servizio della criminalità organizzata per trasferire capitali di origine illecita verso paesi più ospitali ben noti paradisi fiscali è sempre difficile individuare le tracce di operazioni del genere ecco dicevamo quindi i mafiosi ad esempio si arricchiscono con lo spaccio della droga poi questi soldi sporchi eccetera devono essere riciclati e per questo si affidano ai colletti bianchi cioè praticamente insomma agli impiegati insomma che trasferiscono questi capitali in quei paesi che magari non impongono tasse non so Panama Svizzera eccetera eccetera ecco quindi il problema del riciclaggio anche per contrastare questo problema il magistrato deve essere in grado di aggiornarsi di fare tutta una serie di interrogazioni internazionali alle banche ai paesi eccetera stranieri per poter capire che fine hanno fatto i soldi sporchi ecco dicevamo che però i mafiosi si infiltrano proprio nel lucroso mercato degli appalti pubblici infatti dice Giovanni Falcone alla pagina 132 133 il controllo delle gare di appalto pubbliche risale a molte decine di anni fa ma oggi ha raggiunto dimensioni impressionanti non importa se l'impresa che sia giudicata ai lavori sia siciliana calabrese francese o tedesca quale che sia la sua provenienza l'impresa che vuole lavorare in Sicilia deve sottostare a talune condizioni sottostare al controllo territoriale della mafia il condizionamento delle gare di appalto si realizza sia nella fase di aggiudicazione dei lavori gli imprenditori mafiosi ben conoscono i meccanismi e sono in grado di influire sui funzionari preposti alle gare di appalto sia nella fase di esecuzione delle opere a questo punto parlando di appalti pubblici non possiamo non tacere diciamo la collusione cioè i rapporti fra mafia e politica ecco di fronte a questo che cosa propone Giovanni Falcone ripropone la convivenza fondata sulla legalità quindi il contratto sociale di russoiana memoria l'unica alternativa alla tendenza perversa alla corruzione della parte pubblica è quella di uno stato forte di una riproposizione di quello che diceva Rousseau sul contratto sociale infatti dice Falcone quanto è accaduto e continua ad accadere nel campo degli appalti smentisce tutte le teorie secondo cui il decollo socio-economico della Sicilia avrebbe portato automaticamente alla scomparsa della mafia cioè alcuni dicevano e la mafia continua ad esserci perché c'è il sottosviluppo in Sicilia perché c'è una situazione economica così difficile ma se poi ci sarà uno sviluppo economico ecco quindi che automaticamente il fenomeno della mafia che è qualcosa insomma che riguarda il passato segnerà il passo verrà meno non è vero anzi la mafia si è adattata molto bene a quelle che sono state le evoluzioni del mercato Cosa Nostra ha saputo invece innestarsi nello sviluppo deviando nel corso degli effetti e quindi anche in un certo senso ralentando questo stesso sviluppo la sola possibilità per lo Stato di segnare un'inversione di rotta mi sembra consista nel garantire un livello minimo di convivenza civile una forma minima di contratto sociale per citare Rousseau una delle precondizioni delle clausole fondamentali di un simile contratto di convivenza consiste nell'assicurare l'applicazione della legge e nel contrastare efficacemente la criminalità se non si realizzano queste condizioni è inutile rifugiarsi nell'illusione generosa che lo sviluppo possa cancellare come per magia la mafia ora sappiamo che con De Gasperi negli anni 50 è nata la cassa del mezzogiorno dice Falcone è fin troppo chiaro a quali fini immediati tipicamente pre-elettorali dall'orizzonte limitato a qualche mese o qualche settimana risponda alla scelta politica degli stanziamenti di aiuti per i partiti il mezzogiorno è spesso solo un serbatoio di voti attenzione io sto dicendo questo non per dire che quello che De Gasperi ha fatto era sbagliato in sé nella sua gestazione diciamo questa idea della cassa del mezzogiorno cioè l'aiuto al sud perché al sud effettivamente c'era un divario insomma e quindi i politici hanno pensato come fare per contrastare questo divario come fare per colmare il gap insomma fra sud e nord hanno pensato a questa cassa del mezzogiorno ma di fatto questo poi non ha fatto altro se non favorire l'infiltrazione della mafia e arriviamo quindi al capitolo intitolato potere e poteri in questo scenario la politica ha agito l'abbiamo già detto ne abbiamo già accennato all'inizio ha agito in modo dopo la seconda guerra mondiale in modo non sistematico e programmatico favorendo così la debolezza è la mancanza di credibilità delle istituzioni dice infatti Falcone l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata è stato emotivo episodico fluttuante motivato solo dall'impressione suscitata da un dato crimine o dall'effetto che una particolare iniziativa governativa può esercitare sull'opinione pubblica e ancora alla pagina 147 ma con quali strumenti affrontiamo oggi la mafia in un modo tipicamente italiano attraverso una proliferazione incontrollata di leggi ispirate alla logica dell'emergenza ogni volta che esplode la violenza mafiosa con manifestazioni allarmanti o l'ordine pubblico appare minacciato con precisione cronometrica viene varato un decreto legge tampone volto a intensificare la repressione ma non appena la situazione rientra in un'apparente normalità tutto cade nel dimenticatoio e si torna ad abbassare la guardia le leggi non servono se non sono sorrette da una forte e precisa volontà politica e qui arriviamo appunto al discorso di come contrastare questi forti poteri anzitutto la professionalità degli investigatori e degli inquirenti dice Giovanni Falcone ci sono per esempio delle cose che un investigatore e un magistrato non dovrebbe mai fare come abusare e concedersi inutili soddisfazioni con gli investigati e quanto lui raccontano dice giudico inammissibile ad esempio che le forze dell'ordine non tengano un comportamento di assoluta correttezza nei confronti dei sospettati so di un commissario di polizia che recatosi per l'ennesima volta a perquisire la casa di un capo mafia in quel periodo detenuto di fronte alla moglie che lamentava ma siamo perseguitati presto ci ritroveremo senza un soldo si permise di tirar fuori di tasca 500 lire equivalenti a quelli che insomma sono oggi come oggi 50 centesimi e dargliele umiliazione inutile servita solo a procurare un attimo di soddisfazione dal commissario in questione ma molto rancore dall'altra parte ecco questa è mancanza di professionalità oppure evitare le trappole cioè dice Falcone è importante è professionale che un magistrato un poliziotto eviti le trappole perché è il dovere degli inquirenti anche difendere la propria incolumità infatti dice alla pagina 150 la professionalità consiste anche nell'evitare le trappole e questo dice Falcone sintetizzando adesso alcune pagine di questo libro riguarda in particolar modo la sua persona cioè lui era molto scrupoloso lui faceva di tutto per evitare le trappole faceva di tutto per essere sempre accompagnato dalla scorta e questa cosa dagli altri era definita quasi maniacale era criticata questo atteggiamento di Giovanni Falcone lui spiega invece che era giusto comportarsi così e cita tutta una serie di esempi invece purtroppo di altri magistrati o poliziotti che sono stati poco accorti ed effettivamente i mafiosi come ben sappiamo per ammazzarlo hanno dovuto praticamente squartare un'autostrada per poterlo ammazzare intendo dire riempire l'autostrada di Tritolo e far saltare una parte di autostrada per poter raggiungere questo scopo strategie vincenti dice Giovanni Falcone qui ormai stiamo arrivando alla fine del nostro contributo insomma del nostro approfondimento la vittoria nella lotta contro la malavita la si ottiene con il coordinamento poiché la mafia si combatte e si sconfigge in gruppo non da soli alla pagina per esempio 152 parlando alla fine di tutta una sua riflessione su quello che è avvenuto quando è stato nominato Carlo Alberto dalla Chiesa prefetto a Palermo con una grande aspettativa mediatica quindi anche i giornali i telegiornali eccetera avevano presentato l'arrivo di Carlo Alberto dalla Chiesa in Sicilia come appunto quello che era avvenuto durante il fascismo con Cesare Mori quasi la possibilità di risolvere finalmente il problema mafia così come dalla Chiesa era stato bravissimo a debellare e a mortificare il terrorismo combattere insomma il terrorismo lo sarebbe stato altrettanto con la mafia sta di fatto che proprio il fatto che si poggiava tutto su una persona e aveva fatto sì che i mafiosi fossero molto preoccupati dell'arrivo di Carlo Alberto dalla Chiesa e avessero deciso di eliminarlo immediatamente così Carlo Alberto dalla Chiesa giunge a Palermo il 30 aprile e già il 3 settembre di quello stesso anno cioè del 1982 dieci anni prima insomma di Falcone viene assassinato e dice Falcone da tutto questo bisogna trarre una lezione chi rappresenta l'autorità dello Stato in territorio nemico ha il dovere di essere invulnerabile almeno nei limiti della prevedibilità e della fattibilità sono altresì convinto che per conseguire risultati significativi bisogna elaborare strategie unitarie da affidare a centri decisionali coordinati a livello di polizia e di magistratura esiste indubbiamente di fronte a un pubblico ministero più coordinato il problema del suo assoggettamento al potere politico ma personalmente credo che attraverso questa via si accresca la professionalità del pubblico ministero il che costituisce la migliore garanzia per il mantenimento dell'indipendenza della magistratura ebbene la storia di tutto quello che è successo dopo la morte di Giovanni Falcone e che in parte è successo anche grazie alla sua morte ha dimostrato che quello che lui diceva era vero cioè che solo con il coordinamento delle forze dell'ordine e l'istituzione di centri decisionali coordinati si poteva combattere efficacemente la mafia su questo stesso argomento Giovanni Falcone dice proprio alla fine di queste interviste si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze perché si è privi di sostegno ecco quindi l'importanza la necessità proprio di questo coordinamento di questa unità di non lasciare soli chi non deve essere lasciato solo come purtroppo forse lo stesso Giovanni Falcone ma terminiamo proprio con l'ultimo argomento quello della mafia e della politica a questo proposito Giovanni Falcone dice è evidente che è la mafia ad imporre le sue condizioni ai politici e non viceversa essa infatti non prova per definizione alcuna sensibilità per un tipo di attività quella politica che è finalizzata alla cura di interessi generali cioè i mafiosi non fanno i politici nel senso che ce n'era uno tra i mafiosi che si interessava particolarmente di politica ed era stato come dire era preso in giro dagli altri proprio perché questa è l'eccezione che conferma la regola questo è quanto ci spiega Giovanni Falcone a pagina 155 ciò che importa a cosa nostra è la propria sopravvivenza e niente altro essa non ha mai pensato di prendere o di gestire il potere non è il suo mestiere a proposito del dirottamento di voti nella consultazione elettorale del 1987 Francesco Marino Mannoia ci ha detto è stato provocato da Cosa Nostra per lanciare un avvertimento alla democrazia cristiana responsabili di non aver saputo bloccare le inchieste antimafia dei magistrati di Palermo i suffragi sottratti alla democrazia cristiana non sono passati automaticamente ad un altro partito ma sono confluiti verso quei partiti che avevano assunto una posizione fortemente critica nei confronti della magistratura cioè il partito socialista e il partito radicale e ancora dice Falcone non bisogna tuttavia credere che Cosa Nostra non sappia in caso di bisogno fare politica l'ha fatta alla sua maniera violenta e spiccia assassinando gli uomini che le davano fastidio come Piersanti Mattarella presidente della regione siciliana e democristiano nel 1980 e fratello dell'attuale presidente della Repubblica oppure Piola Torre deputato comunista principale autore della legge che porta il suo nome nel 1982 Michele Reina segretario provinciale della democrazia cristiana nel 1979 questi crimini eccellenti su cui finora non si è riusciti a fare interamente luce hanno alimentato l'idea del terzo livello ecco attenzione questa è l'ultima cosa che diciamo il teorema del terzo livello cioè l'idea che addirittura i mafiosi dipendano da certi politici quali politici avrebbero chiesto ai mafiosi di uccidere questo quest'altro antagonista politico di altro partito o di altra corrente dello stesso partito eccetera questa è una cosa assurda è un teorema un'idea assurda ma non lo dico io questo lo dice Giovanni Falcone intendendosi con ciò quindi con l'idea del terzo livello che al di sopra di Cosa Nostra esisterebbe una rete dove si anniderebbero i veri responsabili degli omicidi una sorta di supercomitato costituito da uomini politici da massoni da banchieri da alti burocrati dello Stato da capitani dell'industria che impartirebbe ordini alla cupola questa suggestiva ipotesi che vede una struttura come Cosa Nostra agli ordini di un centro direzionale sottratto al suo controllo è del tutto irreale dice Falcone a pagina 156 e rivela una profonda ignoranza dei rapporti tra mafia e politica l'idea del terzo livello prende le mosse distorcendone significato da una relazione svolta da me e dal collega Giuliano Turone ad un seminario del 1982 a Castel Gandolfo insieme avevamo redatto un rapporto sulle tecniche di indagine in materia di delitti mafiosi avevamo sottolineato che la mafia non è un'organizzazione che commette delitti suo malgrado ma un sodalizio avente come finalità precipua il delitto per esigenze sistematiche avevamo distinto i delitti eventuali come li avevamo definiti da altri essenziali in altre parole i reati come contrabando estorsioni sequeste di persona cioè i delitti per cui si è costituita l'organizzazione li avevamo classificati di primo livello a secondo livello avevamo classificato i reati che non costituendo la ragione d'essere di cosa nostra ne sono tuttavia l'indiretta conseguenza per esempio l'omicidio di un uomo d'onore che si è macchiato di uno sgarro nei confronti dell'organizzazione mafiosa restavano i reati non classificabili né come essenziali o strutturali che sono quelli abbiamo spiegato noi di primo livello né come eventuali di secondo livello ma che venivano perpetrati in un dato momento per garantire la sopravvivenza dell'organizzazione l'omicidio di un prefetto vi ricordate Carlo Alberto della chiesa di un commissario di un commissario di polizia come Rocco Chinnici di un magistrato particolarmente impegnato ecco quindi il delitto di terzo livello attraverso un percorso misterioso per non so quale rozzezza intellettuale il nostro terzo livello è diventato il grande vecchio il burattinaio che dall'alto della sfera politica tira le fila della mafia queste sono assurdità e poi tanti processi che si sono svolti anche negli anni successivi alla morte di Giovanni Falcone hanno dimostrato che si tratta di teoremi assolutamente infondati dice Falcone non lo dico io ma dice Falcone non esiste ombra di prova o di indizio che suffraghi l'ipotesi di un vertice segreto che si serve della mafia trasformata in semplice braccio armato di trame politiche impariamo quindi questo dico come ultimo grande insegnamento da questo libro e in generale da Giovanni Falcone a non farci i nostri teoremi i nostri schemi i nostri progetti le nostre idee che non hanno alcun aggancio con la realtà ma partire sempre dalla realtà partire abbiamo visto dal rispetto dell'uomo rispetto alla conoscenza della situazione della realtà dell'altro e poi non dai nostri schemi ideologici ma partire dalla realtà effettuale direbbe Machiavelli ti interessano file di questo genere? allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news www.gaudio.org